La nostra vita si svolge, tutta la nostra vita si svolge tra oggetti, tutta la nostra vita si svolge tra oggetti di attrazione, quindi che ci generano attaccamenti, amiamo qualcuno, siamo coinvolti da qualcuno, ma quando parlo di qualcuno parlo di qualcuno intendendo anche delle cose fondamentalmente, delle situazioni, oppure proviamo rabbia nei confronti di qualcuno. E la maggior parte delle persone vive di invidia, di rabbia, oppure di attaccamento. La nostra vita è bipolare, diciamo così, oscilla tra una cosa e da una cosa all'altra, dall'amore e dall'attaccamento alla rabbia. E questa frase è in realtà un versetto della Ghirlanda di Gioielli, del Bodhisattva, che è un testo del buddismo tibetano, scritto da Tisha, che è un maestro indiano, nato intorno al 1000 dopo Cristo, l'undicesimo secolo, e che è la persona, diciamo, che ha portato il buddismo in Tibet, che poi è diventato buddismo tibetano perché il lignaggio di Atisha è quello del, diciamo, del buddismo tibetano. E il lignaggio diretto sono i maestri Kadampa, poi ci sono state delle divisioni, ci sono la Mazzunkappa, eccetera. Comunque Atisha è quello che ha portato. E ha scritto diversi testi, ha scritto diversi testi e un testo fondamentale è la Ghirlanda di Gioielli del Bodhisattva, di cui ho già accennato una volta, però senza soffermarmi tanto, cioè avevo accennato, anzi abbiamo visto tutti i versetti, scritti in versetti, ma senza soffermarmi eccessivamente. Ma questa parte, diciamo, sull'attrazione e sull'avversione è fondamentale. Perché? Cosa ci dice Atisha? Ci dice che sia gli oggetti di attrazione, sia gli oggetti di avversione sono vuoti l'esistenza intrinseca. Quindi siamo noi che proiettiamo sulle persone quello che è attrazione o quello che è avversione. Ma io lo dico sempre comunque, dipende da noi, perché noi non possiamo sperimentare la realtà senza il nostro filtro. E non esiste una cosa migliore, una cosa peggiore. Siamo noi, cioè è tutta colpa nostra, diciamo così. Perché, ad esempio, anche le situazioni, non è detto che tutte le situazioni siano intrinsecamente negative o intrinsecamente positive. Dipende dal valore che gli attribuiamo noi. La relazione con una persona sposata potrebbe essere negativa per qualcuno e positiva per qualcun altro. Quello che per qualcuno è un problema, per un altro è una soluzione. Quindi, ovviamente, noi dobbiamo tenere presente questo, che il nostro faro illuminante deve essere, deve essere, diciamo, la sofferenza o il piacere che proviamo. Ma dirò di più, la sofferenza e il piacere che proviamo dipendono esattamente dall'attribuzione che noi facciamo, dall'attribuzione che noi facciamo alla situazione che viviamo. Perché, come dire, tutte le situazioni, anche quando noi vediamo un oggetto di attaccamento, cioè, vediamo una persona e ci innamoriamo di quella persona, non è che quella persona lì ha delle qualità intrinseche. Siamo noi che gli attribuiamo delle qualità. Noi non possiamo, diciamo, dipende dalle valutazioni che noi facciamo e dalle proiezioni che noi facciamo su questa persona, o su questa situazione. Per cui, cosa significa questo? Che è tutto vuoto di esistenza intrinseca. Cioè, la realtà, di fatto, non esiste. Quando voi soffrite per amore, sono cazzi vostri. È colpa vostra, non è colpa di qualcun altro. Se soffrite per una relazione, è colpa vostra, non è colpa di quello. Quello non è intrinsecamente cattivo. Siete voi che le avete attribuito delle caratteristiche e che ve ne fa innamorare. Attribuite le altre caratteristiche e vi disinnamorerete. Perché? Dipende da voi. Se io, cioè, l'esempio, un esempio stupido, no? Se io prendo questa cosa qua, che ovviamente è identificata come una campana. È una campana tibetana. Ma è una campana tibetana perché io gli ho attribuito questo valore. Ma questa campana tibetana potrebbe essere anche una ciotola per i cani. Oppure un vaso di fiori, dove ci metto dei fiori dentro. Oppure potrebbe essere un contenitore per bere dell'acqua. E insomma, potrebbe avere altre funzioni. Potrebbe essere, che ne so, un vaso di protezione di qualcosa. Un elmetto in tempo di guerra, il metto e l'elmetto in testa. Insomma, dipende dall'utilizzo che ne faccio. Sicuramente non sono infinite le attribuzioni che io posso fare. Perché questa cosa qua non potrà mai essere un gelato alla crema. Se io penso, anche se ci credo intensamente, che un gelato alla crema gli do una dentata dentro, mi spaccherò i denti comunque. Comunque, però, diciamo, ci sono tantissime le funzioni che io posso attribuire a questa cosa. Ma lo stesso è il suono che viene prodotto. Il suono che viene prodotto per qualcuno potrebbe essere positivo e per qualcun altro potrebbe essere negativo. Qualcuno potrebbe far piacere, a qualcun altro potrebbe dar fastidio. E questo dovete tenerlo presente. Quindi, c'è anche da dire un'altra cosa. Che lo stesso stimolo, lo stesso stimolo, lo stesso stimolo, somministrato per un tempo lungo può diventare, può passare da piacevole a spiacevole. Perché se io, a me piacciono tanto, che ne so, i ravioli alla panna, per dire. Ma se me ne fanno mangiare 10 chili di ravioli alla panna, avrò il vomito. Vomiterò il ravioli alla panna. Quindi lo stesso oggetto può passare, diciamo, da essere un oggetto di attrazione ad essere un oggetto di avversione. Quando voi state con una persona, prima lo amate, poi lo odiate. Però noi abbiamo questa caratteristica, che tutte le cose le percepiamo o come attrazione o come avversione. E normalmente passiamo da uno all'altro. Cioè, c'è anche la fase intermedia, no? Che sono gli oggetti neutri. Quelli che non ci danno né attrazione né avversione. Quelli normalmente restano sempre neutri. Cioè, il filo del portiere, per fare un esempio, che è del quale non... resta neutro, ma i neutri non ci frega più di tanto. Ma invece, quando noi sviluppiamo attrazione per qualcuno, spesso, ci ossessioniamo. Ci sono persone che si ossessionano, che si appiccicano come cozze. Sono ossessionate, non riescono ad accettare il rifiuto. Ma questo fa parte della vita. Quindi, cosa diceva Tisha? Tisha diceva che noi dobbiamo imparare a meditare sul vuoto di entrambe le cose, sulla vacuità di entrambe. Cosa vuol dire meditare sulla vacuità di entrambe? Meditare significa familiarizzarsi, significa accettare la situazione, significa rendersi conto che sia gli oggetti di attrazione, sia gli oggetti di avversione, sono vuoti. Di esistenza... Vuoti di che cosa? Perché se io dico il bicchiere è vuoto, devo dire di che cosa è vuoto. Perché noi spesso abbiamo per scontato le cose, no? Se io dico questo bicchiere è vuoto, è vuoto, ma di che cosa è vuoto? Qual è l'oggetto di negazione? Perché potrei dire, se è pieno d'acqua, potrei dire questo bicchiere è vuoto di vino. Oppure se, come dire, non lo so, se è pieno d'acqua, potrei dire questo bicchiere è vuoto di aria, perché c'è l'acqua dentro. Quindi, quando noi diciamo una cosa è vuota, dobbiamo anche dire di che cosa è vuota. Perché non è detto, noi diciamo il bicchiere è vuoto, ma è vuoto di cosa? In realtà è un bicchiere pieno d'aria, se non c'è acqua, o se non c'è vino, o se non c'è un altro liquido fondamentalmente. Quindi, in questo caso, questi oggetti di desiderio, gli oggetti di attaccamento, e di rabbia, sono vuoti di che cosa? Di esistenza intrinseca, cioè di esistenza autonoma, di esistenza indipendente. Sono invece pieni, tra virgolette, di esistenza interdipendente, cioè interdipendente nei nostri confronti. Siamo noi che gli diamo una connotazione del bene, del male, del giusto e dello sbagliato, ma possono risvolgere entrambe le cose. Quindi non esiste un qualcosa che sia oggettivamente, come dire, oggettivamente oggetto di desiderio, oppure oggetto di avversione. Anche le cose più nefaste, cioè, anche le cose più nefaste, anche le persone più nefaste. Pensate a Hitler, Hitler era un oggetto di avversione, per tutti quelli che, che, insomma, che ha mandato al campo di concentramento, ma magari era un oggetto di attrazione per i suoi, che ne so, commilitoni, no? Diverso è dire ciò che è virtuoso e ciò che è vizioso o dannoso, perché, perché quello che è virtuoso è quello che genera del bene alle persone, che genera degli stati di piacere. Quindi dobbiamo distinguere, ma qualunque situazione, qualunque cosa, quella è negativa o positiva, cioè è attrazione o avversione, in funzione sempre dell'osservatore. L'osservatore, l'osservatore è, quello che succede in Iran è raccapricciante, nel senso che, però per qualcuno, invece, è una cosa buona e giusta. è come dire, per gli iraniani talebani, per gli iraniani talebani è una cosa buona, invece, per quelli che invece subiscono è una cosa sbagliata, ma anche questo è relativo, sembra paradossale, ma anche questi oggetti di attrazione e di aversione sono vuoti di esistenza intrinseca, perché per qualcuno vanno bene, che poi siano delle situazioni che generano sofferenza, questo, tutto ciò che produce sofferenza, poi questa sofferenza ritornerà attraverso il karma, ma teniamo presente anche delle cose culturali, no? Perché anche, dipende anche molto dalla cultura, ci sono delle cose che, ad esempio, nella cultura greca erano normali, cioè anzi erano considerate oggetti di attaccamento, che oggi sono considerate in modo estremamente negativo, o viceversa, e non è che la cultura greca fosse l'ultima delle culture sulla faccia della terra, quindi è tutto estremamente relativo, cioè vuol dire che è tutto vuoto di esistenza intrinseca. I valori assoluti non esistono, poi esistono delle situazioni che generano prevalentemente benessere, situazioni che generano prevalentemente malessere, ma la saggezza delle persone è vedere ogni situazione, ogni cosa, come vuota di esistenza intrinseca. E allora, e allora, ma la sofferenza è, stiamo parlando di due cose diverse. La sofferenza è sofferenza, e quindi se un qualcuno ti genera sofferenza, secondo il legger karma, genera un'azione che ritornerà. ma io sto parlando di che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, di cosa è attaccamento e che cosa è avversione. Se non ci fosse per qualcun attaccamento, non ci sarebbero queste situazioni, no? Ma è come dire, per dire, anche l'aspetto negativo, diciamo storico, Hitler ha avuto i suoi sostenitori, persone che erano attaccate a questa ideologia. Se non le avesse avute, non ci sarebbe stata neanche quell'ideologia stessa. Quindi, questo per dire che cosa? Per dire che, come, diciamo, dipende dal ruolo che noi attribuiamo alle cose. Non lo so, ma talvolta sono anche fatte a fin di bene le cose. Ci sono delle culture, ad esempio, dove probabilmente pensano che, che ne so, fanno delle pratiche, come dire, molto forti, molto dolorifiche, diciamo, su bambini piccoli, perché pensano che questi siano posseduti dal demonio. e quindi, cioè, tutto è vuoto di esistenze intrinseche. Quindi dobbiamo, Yatisha cosa dice? Meditate sul fatto che quando voi provate un attaccamento, non è che quell'oggetto di attaccamento sia buono di per sé. Siete voi stessi che proiettate delle vostre cose su questa cosa e lo considerate buono. Proiettatene altre e lo considerate cattivo. E quindi, la cosa è molto semplice. Se voi soffrite per una qualsiasi cosa che vi genera sofferenza e voi vi siete attaccati, basta proiettare il contrario e vi staccherete. Questo è. No, cioè, voglio dire, faccio diventare la campana tibetana e la faccio diventare una ciotola. Se ho bisogno di dar da mangiare al cane o ho bisogno di contenere l'acqua e ho la campana tibetana e non so un altro posto dove mettere l'acqua e devo usare questa campana tibetana per prendere l'acqua. Dovrò dargli la funzione che è più utile per me. Quindi, alla fine, bisogna dare la funzione più utile, quella che mi serve, quella che mi fa star bene. Quindi, se una persona mi fa star male, tra virgolette, non devo considerare l'oggetto di attaccamento. Devo mettere nella testa il fatto che per me è un oggetto di avversione, per me è un qualcosa di negativo e allora me lo devo togliere dei coglioni. questo in altri termini è un insegnamento che sembra banale ma non è così banale perché ci permette di superare tutte delle sofferenze che altrimenti invece andremo a vivere. Quindi, abbiamo noi questo grande potere, abbiamo questa grande capacità di in realtà vedere ogni oggetto come oggetto di attrazione e come oggetto di avversione. È molto importante vedere le cose nel modo giusto, nel modo che mi diano un vantaggio. Quindi, gli oggetti sono neutri fondamentalmente, siamo noi che gli diamo un valore come diceva T, sono vuoti di esistenza intrinseca, cioè non esistono intrinsecamente. Dobbiamo dargli noi una valutazione. Noi non possiamo sperimentare il mondo indipendentemente da noi stessi, indipendentemente dalle attribuzioni di valore che noi diamo a quello che andiamo a sperimentare. Questo sembra una cosa banale ma ci permette di essere felici perché diamo l'attribuzione giusta tanto una vale l'altra. È come dire, siamo noi che dobbiamo dare l'attribuzione. La campana tibetana, certo, ecco, il problema qual è? Che noi perché soffriamo? Perché noi invece attribuiamo dei valori assoluti alle cose che percepiamo. Un oggetto di attrazione è un oggetto di attrazione perché non è importante capire a livello logico e razionale che magari la persona con la quale siamo relazionati è un pezzo di merda, uno stronzo, eccetera, eccetera, ma dobbiamo renderci nel conto a livello profondo perché altrimenti per noi è la persona migliore. se proviamo un attaccamento viceversa è una persona con la quale proviamo per qualche motivo un'avversione la persona peggiore ma non è vero. Questo non è né migliore né peggiore è una cosa neutra. Siamo noi che interagendo con questa persona interagendo con questa situazione la possiamo sperimentare in funzione di tante motivazioni o come oggetto di desiderio o come oggetto di attaccamento o come oggetto di avversione quindi diventiamo padroni a casa nostra diventiamo padroni di definire ogni evento che ci succede con come un oggetto di attaccamento o come un oggetto di avversione. intanto non possiamo fare diversamente possiamo diciamo metterlo nella storia degli eventi neutri ma poi alla fine la maggior parte degli eventi in qualche modo dobbiamo classificarli o come avversione o come diciamo o come avversione o come attaccamento in qualche modo o come oggetti di desiderio o come oggetti di rabbia. ma dipende da noi e solo che spesso questo meccanismo avviene consapevolmente non ce ne rendiamo conto non ce ne rendiamo conto delle cose quindi andiamo a subirle andiamo a subire il fatto che un qualcosa mi genera attaccamento un qualcos'altro mi genera rabbia ma siamo noi che dobbiamo scardinare questo meccanismo siamo noi che dobbiamo entrare in una situazione in cui non esiste più attaccamento assoluto non esiste più avversione assoluta ma tutto in modo interdipendente quindi capire la saggezza qual è capire che gli oggetti sono vuoti di esistenza intrinseca cioè non sono di per sé connotati siamo noi che diamo una connotazione se riusciamo a capire bene questo da un punto di vista profondo allora potremo essere felici primo perché siamo noi che faremo le attribuzioni giuste quelle che ci fanno più comodo e ci toglieremo dai coglioni tutte le situazioni fatti le persone che di fatto ci generano sofferenza e andremo a perseguire tutte le situazioni che ci generano benessere e questo è un po' il punto fondamentale della situazione e volevo fare questa breve diciamo questo breve video per questo quindi spero che il messaggio sia passato e seguitemi su Instagram ovviamente